ciao a tutti oggi facciamo un video un po diverso dal solito vedremo le caratteristiche della sony hdr as20 ho pensato che una cosa che poteva interessare a molti era quella di capire come poter acquistare una action cam che fosse funzionale per la maggioranza delle persone innanzitutto partiamo da quelle che sono le caratteristiche principali di questa action cam è particolarmente tascabile a un prezzo davvero basso a 11,9 megapixel e ha un ingresso audio stereo inoltre la qualità in hd gli permette di registrare in buonissima risoluzione è dotata di un piccolo monitor un piccolo schermo con la quale si possono settare diversi parametri e possiamo settare anche il tempo di scatto nel caso di timelapse e timelapse non si possono ridurre a meno di uno scatto ogni cinque secondi però se si desidera fare timelapse a panorami albe tramonti o qualcosa che impiega diverso tempo è davvero buona un'ottima cosa riguarda il grand'angolo che possiede questa telecamera possiede una visuale molto ampia 170 gradi abbiamo il tasso di registrazione sempre dietro abbiamo una spia che identifica quando l'action cam è accesa o è spenta quindi modalità registrazione o meno e all'interno abbiamo l'alloggiamento per la batteria e l'alloggiamento per la micro sd nella parte inferiore di questo dispositivo abbiamo un vano nella quale sono presenti il jack da 3 e mezzo per poter attaccare un microfono esterno un hdmi mini e poi è presente micro usb per ricaricare il dispositivo attraverso il tasto inferiore si dà l'ok alle preferenze e con i tasti a fianco al display si accede al menu e si può andare in avanti o indietro per selezionare le diverse opzioni una cosa particolarmente interessante dei dispositivi sony è che la maggioranza di questi dispositivi ha delle batterie che sono universali nel mio caso ad esempio io possedgo questa action cam e anche una macchina fotografica compatta della sony la rx100 mark 4 che possiede la stessa identica batteria l'autonomia è abbastanza buona arriva tranquillamente a tre ore e mezza barra 4 in time lapse e leggermente meno in modalità video alcuni esempi di time lapse fatti direttamente con la sony qualcosa che può essere molto utile è questo battistone telescopico ci permette di avere un'estensione notevole un galleggiante per attaccare l'action cam quindi portarsela con sé in acqua e diversi accessori da poter attaccare al casco o in qualunque altro supporto piatto insieme all'action cam viene venduto anche il suo supporto originale che rende la action cam in sé impermeabile l'action cam utilizzata così ovviamente non sarebbe impermeabile ma attraverso questo case l'action cam può raggiungere fino a tre metri di profondità e si può inserire agevolmente permettendo anche di utilizzarla da chiusa attraverso i tastini laterali e posteriori l'unico difetto di questo case è che nonostante sia completamente impermeabile l'audio perde notevolmente di qualità una soluzione pratica che si può adottare è quella di utilizzare questa case completamente aperta ma che adotta al fondo la vite da poter appunto agganciare a qualunque altro accessorio permette di proteggere la telecamera da urti almeno laterali e riserva totalmente l'audio in entrambi i casi la telecamera si riesce a utilizzare molto bene vi lascio il link da questo lato così da poter visionare alcuni video che sono stati realizzati direttamente con questa action cam il gatto questa macchinetta non è propista di schermo quindi ogni qualvolta vogliamo fare una registrazione ogni qualvolta vogliamo fare una registrazione la cosa ottimale è quella o di tenere davanti uno smartphone o un dispositivo che ci permetta attraverso il wifi di interfacciarci con questa telecamera così da vedere quello che effettivamente la telecamera sta riprendendo oppure potremo benissimo fare riprese alla cieca per così dire e poi in fase di montaggio scegliere le scene che preferiamo per selezionarle e utilizzarle nel nostro video è un'ottima compagna per i nostri viaggi per le nostre escursioni in un percorso fatto in bicicletta e così via sicuramente il prezzo contenuto è il punto di forza di questa action cam più o meno questo è quanto si può dire di questa action cam spero che questo video vi possa essere stato utile almeno per capire un po meglio la funzionalità di questa telecamera e per riuscire ad orientarvi meglio sulla vostra scelta di acquistarla o meno grazie a tutti